Buongiorno a tutti da Valerio Villa e da Metropolis Immobiliare e benvenuti in questo nuovo video oggi vi accompagno a Cadempino in una zona residenziale a visitare un 3,5 locali nello stabile che vedete qui alla mia destra è uno stabile dove abbiamo all'interno sia un 3,5 locali all'ultimo piano che andremo a visitare sia un 4,5 con giardino quindi se siete interessati anche a una configurazione quattro e mezzo locali di oltre 100 metri con un bel giardino potrete contattarci anche in questo caso qui abbiamo l'esempio di uno stabile già finito sempre dello stesso costruttore quindi è uno standard molto bello moderno e adesso seguitemi che vi accompagno nel piano superiore per visitare questo 3,5 locali ma prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube e attivare le notifiche con la campanella ora venite con me che vi accompagno all'ultimo piano per iniziare la visita bene siamo levati all'ultimo piano quindi al piano superiore con l'ascensore abbiamo un corridoio ovviamente che divide i vari locali abbiamo su questo lato una camera da letto quindi una camera da letto eventualmente singola come vedete con una bella finestra quindi una camera da letto dove possiamo eventualmente organizzare una camera per un ragazzo poi qui abbiamo un bel bagno spazioso ovviamente come vedete l'appartamento è allo stato grezzo è possibile scegliere le rifiniture poi proseguiamo per il corridoio dove abbiamo sul lato sinistro una dispensa in uno spazio per organizzare al meglio tutto quello che serve per la casa e poi entriamo nell'area living dove abbiamo un bel soggiorno luminoso razionale spazioso e organizzato dove abbiamo chiaramente anche l'accessibilità poi all'area esterna ovviamente abbiamo una cucina che deve essere installata quindi è possibile personalizzare le finiture e vi mostro il balcone bene adesso vi accompagno quindi avendo visto gli spazi anche esterni di soggiorno a visitare nuovamente quest'ultima area che è dedicata a una camera da letto e quindi con il suo bagno padronale quindi anche in questo caso vedete il contesto comunque un bel contesto residenziale siamo a Cadelpino vicino a tutti i servizi come dicevo la camera padronale con il bagno padronale privato finestrato questo è un fattore molto importante quindi ricatitolando abbiamo visto un tre e mezzo locali di oltre 70 metri quadrati complessivamente strutturato come avete visto con delle camere da letto con un bagno padronale e un secondo bagno sempre spazioso abbiamo una dispensa abbiamo un bel soggiorno l'appartamento è all'ultimo piano questo è un altro fattore appunto di esclusività di questa unità lo stabile come avete visto è nuovo di ultima generazione riscaldamento a pompa di calore tutte le caratteristiche degli immobili moderni abbiamo la possibilità di scegliere un posteggio eventualmente anche due nell'autorimessa perché c'è una disponibilità anche eventualmente di posteggi esterni la cantina e quindi tutto ciò che è desiderabile da un oggetto moderno e in una posizione comoda come quella di Cadelpino a pochi minuti da Lugano e a pochi minuti da tutti i principali servizi nella descrizione del video arriveranno nei prossimi giorni tutte le informazioni relative a questa proprietà quindi qui sotto troverete una completa descrizione con tutti i dati e arriverà anche il link per poter accedere alla scheda dell'immobile direttamente nel nostro sito nel frattempo se foste interessati a maggiori informazioni o eventualmente se vi è piaciuto il video e ritenete che questo è l'oggetto ideale per voi anche richiedere una visita contattandoci al numero di telefono come vedete qui sotto o tramite il sito metropolis.com che tra l'altro vi faccio presente è stato appena rinnovato quindi abbiamo un bellissimo sito nuovo andate a visitarlo dove trovate tutte le vostre proposte immobiliari io quindi vi ringrazio per essere stati con me ricordatevi anche che se avete un immobile in vendita di farcelo sapere quindi potete compilare un link che trovate sempre qui sotto in descrizione e richiedere una valutazione gratuita sia del prezzo e del valore di mercato del vostro immobile sia di quello che è una strategia mirata per poterlo vendere nel minore tempo possibile alle migliori condizioni possibili e senza sorprese potendovi avvantaggiare del servizio professionale che Mitropolis mette a disposizione dei suoi clienti da ormai 12 anni quindi grazie ancora per essere stati con me anche oggi nella visita di questo veltre e mezzo moderno con finitura e scelta a cadettino vi auguro una splendida giornata e ci vediamo al prossimo video